Il Green Pass o certificato verde è un documento cartaceo e digitale in cui viene certificato che l'intestatario abbia completato il ciclo di vaccinazione sia guarito dal covid-19 o ancora abbia effettuato un test diagnostico risultato negativo al virus nelle ultime 48 ore. Consente di partecipare a matrimoni e cerimonie ma soprattutto va ad agevolare gli spostamenti turistici negli stati membri europei senza peraltro essere un prerequisito alla libera circolazione. Per ottenere la certificazione ci sono quattro strade digitali il sito del ministero tramite testa sanitaria o identità digitale speed il fascicolo sanitario elettronico regionale e le app immuni e io. Per chi non dispone di computer o smartphone potrà rivolgersi al medico di famiglia al pediatra di libera scelta o in farmacia come sottolinea il dottor silvio basile presidente regionale del sindacato medici italiani. È sufficiente che venga da noi viene dal suo medico di famiglia porta la tessera sanitaria e noi dalla tessera sanitaria ricaviamo immediatamente il certificato digitale che poi gli possiamo inviare nelle modalità che lui preferisce. Lo possiamo stampare, lo possiamo mandare su un messaggio whatsapp o posto elettronico a seconda delle esigenze delle persone. Tra l'altro noi siamo dotati di personale segretariale, gli diamo indicazioni, il personale segretariale è perfettamente addestrato per farlo. Tutto semplice allora? Non proprio. Dalla FIMG, Federazione Italiana Medici di Famiglia, arriva una sonora bocciatura. In una nota il segretario nazionale Silvestro Scotti tra le altre cose scrive non accetteremo una visione della medicina generale di carattere impiegatizio, una medicina generale che si vorrebbe costringere a sottrarre altro tempo all'assistenza dei pazienti per adempiere a funzioni amministrative. Siamo medici, non stampanti. Su questo tema sentiamo ancora Basile. È vero però noi siamo dalla parte dei cittadini e in tutti i modi cerchiamo di aiutare le persone che hanno un problema e cerchiamo di risolverglielo. Questa è la nostra ottica, il nostro modo di vedere.